Anche quest'anno Pordenone diventa la città dei libri. Io mi rifaccio sempre a quello che avrebbe scritto Calvino se avesse aggiunto al suo libro, quello delle città invisibili, un capitolo relativo ai libri. Beh, sarebbe venuto qua. Tutti questi ragazzi in giro, tutta questa gente che è venuta da fuori in attesa della inaugurazione, ci dice che A. Siamo sintonizzati ai livelli che noi vogliamo mantenere. B. Che la cultura porta gente, porta movimento e quindi porta alla fine incentivazione alla nostra città e alla gente che opera qui. E da ultimo, che siamo pur sempre in testa alle città che fanno cultura sul serio in Italia.